Buona domenica a tutti da Stefano Rossoni della Giovanitalia e benvenuti a Spal Brescia, gara valida per la nona giornata del campionato Under-16. I padroni di casa sono reduci da ben tre vittorie consecutive e oggi tenteranno di proseguire nella propria stescia vincente, momento positivo anche per gli ospiti che nell'ultima settimana hanno superato il Cittadella con un netto 6-3. Andiamo a vedere le formazioni in campo, Mr. Troiano effettua due cambi rispetto alla gara di settimana scorsa, con Zenti tra i padri e Torre a centrocampo con la maglia numero 10. La squadra di Marco Franchi risponde invece con un 4-3-1-2, con Gussago trequartista alle spalle di Saccone e Bezzati. Pacchini recupera il pallone e Rocceda Buratto che poi verticalizza un passaggio molto interessante per Bezzati che sterza sul sinistro. Bezzati! Sotto le gambe del portiere trova il vantaggio del Brescia al ventunesimo minuto. Vince un rimpallo, Gussago e poi la conduzione. Palla al piede, c'è Bezzati sulla destra. Avanza, Bezzati sterza come nell'occasione del primo gol. Serra sposta sul mancino. Mazzenti si distende e blocca il pallone. Castiglione alza lo sguardo e tenta il lancio per Rizzotto. Pallone sporcato ma arriva puntuale sulla fascia destra. Il cross in mezzo per Diaga! E c'è il colpo di testa vincente del numero 7 della Spal. Calcio di punizione in favore della Spal. Il pallone dentro per Rocco che non controlla. Cecchinato se la ritrova lì col Gekai non benissimo. Ancora Rocco! E questa volta il portiere del Brescia la rispinge con i piedi. Ma attenzione perché l'azione non è finita. E allora Rizzotto sulla fascia destra. Dentro! Per nei Maui che si divora la rete del 2 a 1. Rizzotto cerca un compagno vicino e poi decide di appoggiarsi all'indietro a Zenti. Che non vuole buttare il pallone ma rischia. E Saccone! Rischia tantissimo la Spal. Ma Zenti recupera all'errore fatto in precedenza. Burato può avanzare. La scarica a sua sinistra. A Saccone dà uno sguardo in mezzo. C'è l'ingresso in area di rigore di Tagliabue che viene atterrato. E per l'arbitro non ci sono dubbi. È calcio di rigore in favore del Brescia. Sul dischetto si presenta come sempre Capitano Barcella. Parte Barcella! E spiazza il portiere per il 2 a 1 Brescia. Gussago, doppio tocco fortunoso e poi Beldenti dentro per Saccone. Sera sposta sul mancino e Zenti si distende per deviare il pallone in calcio d'angolo. Si appoggia ancora a Samaritani. Ogaristi va via all'avversario. Tenta ancora il passaggio per Samaritani! Che va vicinissimo al gol del 2 a 2. Finisce qui. Il Brescia vince contro la Spal grazie alla rete decisiva sul calcio di rigore del Capitano Barcella. Barcella! Baracella! Grazie a tutti.